allora buonasera a tutti siamo da amietto luca e siamo a vigo novo da lui abbiamo installato un impianto da 9 kilowatt in superbonus 110 con pannelli hyundai inverter huawei 30 kilowatt di batteria huawei luna 2000 quindi due batterie da 15 kilowatt ora e una wall box per la ricarica di auto elettriche tesla il trainante dell'iniziativa del super bonus è stato un sistema ibrido della daiki in pompa di calore con caldaia a doppia condensazione pompa di calore da 8 kilowatt abbiamo installato questo impianto ad ottobre 2022 e oggi siamo qua per parlare con luca per vedere quali sono i risultati che abbiamo ottenuto calcolando che stiamo verificando il funzionamento l'impianto a meno di un anno dal suo dalla sua entrata in funzione e soprattutto abbiamo appena passato un inverno quindi da ottobre tutta l'invernata la primavera e adesso finalmente il sole come ti stai trovando luca con questo impianto benissimo io avevo già fiducia nel fotovoltaico però sono stato piacevolmente colpito perché la resa eccezionale tu dicevi abbiamo appena passato un inverno però io ti dico che è da metà febbraio che la casa è un'isola è autonoma perché produce veramente più del dovuto e siamo soddisfatti di questo bene stavo guardando prima il tuo monitoraggio venendo a trovarti e ho visto di dati veramente entusiasmanti al 2023 4 per cento di acquisto di energia c'è una cosa veramente esigua anche le giornate come oggi per carità giornate di sole piena io do un'occhiata ogni tanto all'app perché è una cosa anche curiosa da visionare da vedere quanto si consuma quanto si rende giornate come oggi superiamo di 50 kilowatt eccezionale bene a dire quindi autosufficienza energetica per casa tua energia pulita che immetti in rete che può essere utilizzata appunto dalla collettività ed anche un ritorno economico perché comunque l'energia ti viene anche certamente pagata ragazza è già avvenuto benissimo il ritiro dedicato nell'anno scorso delle cifre molto alte adesso si sta assestando perché ovviamente va come l'andamento del costo dell'energia e quindi questo momento è intorno ai 0,16 0,17 centesimi di euro al kilowatt che comunque aiutano e danno sempre un ritorno economico benissimo a livello tecnico i nostri installatori come hanno lavorato ma hanno lavorato benissimo come dicevi tu la cura del dettaglio mi è sempre interessata e quindi avevamo anche noi le nostre esigenze esigenze estetiche sull'impianto che fosse tutto pulito ma nulla da eccepire i tecnici ci hanno seguito hanno seguito le nostre indicazioni hanno dato le loro ovviamente quindi ci siamo trovati benissimo veramente molto disponibili a livello burocratico è stato un processo complesso a livello burocratico noi non abbiamo fatto nulla è occupata tutta bioenergia ci ha dato le indicazioni delle varie fasi della progettazione appunto degli aspetti burocratici ma ha svolto tutta l'azienda quindi per noi non c'è stata nessuna difficoltà bene quindi tutte le promesse che sono state fatte in fase di consulenza iniziale poi di contrattualizzazione sono state mantenute alla grande in toto bene ci fa molto piacere ti dicevo mi hai stupito particolarmente tu sei fondamentalmente un artista del metallo diciamo sì lavoro in ufficio tecnico mi occupo di progettazione però c'è anche la passione per il design più che altro per l'interior design quindi io e mio collega che è diventato anche socio diciamo abbiamo deciso di sfruttare le nostre conoscenze in campo tecnologico di progettazione di conoscenza delle leghe per sviluppare degli oggetti delle opere delle creazioni di interior design per le case l'importanza che noi diamo alla qualità sull'oggetto è anche una valenza estetica non deve essere bello semplicemente ma deve avere proprio una valenza estetica deve essere nato da un ragionamento e noi diamo importanza a questo è avuto problemi con l'impianto no nessuno tanto che noi abbiamo installato anche il backup ok quindi se va via la corrente la casa rimane comunque alimentata dalle batterie giù abbiamo aggiunto un ulteriore dispositivo al nostro già impianto per quanto eravamo soddisfatti insomma quindi sei effettivamente autosufficiente sì esatto esatto bene luca io ti ringrazio per la tua testimonianza grazie a bioenergia e a te lorenzo che mi hai seguito benissimo grazie e in bocca al lupo per la passione e la nuova attività grazie mille grazie ciao ciao